Buongiorno, sono qua per parlarvi dell'iniziativa che mi è venuta in mente di sabato 21 luglio, in erita alle notti del borgo. Questa iniziativa è per raccogliere, l'abbiamo chiamata Festa dello Sport, per raccogliere un po' di più puntamentente bambini che vengono a giocare con noi in piazza. Tutti gli sport che possono essere avvicinati. Abbiamo pensato di far giocare anche dei bambini a golf, quindi verrà piazzato con la collaborazione del golf di Grate con Turbia, verrà piazzato un piccolo campo da golf da vedere per i bambini. Ci saranno del CBS Borgomanero che porterà le sue biciclette per provare i bambini a far girare con i rulli. E poi ci sarà un piccolo campo da pallone per i primi tiri, per farli giocare a pallone, il primo tiro di pallone, il loro primo gol. E poi ci sarà il basket che ci darà una mano, anche l'Univer che porterà sui giocatori, regaleranno gadget, palloni, palloncini del vario genere e così. Anche il golf di Grate farà degli omaggi con una pallina da golf e tutto, insegnerà il primo tiro e di qua e di là. Ci saranno il Twirling di Santa Cristina che ci accompagnano per tutta la giornata. e insieme a loro abbiamo pensato che ci sarà Punto Radio che ci accompagnerà per tutta la giornata e poi ci sarà una diretta che durerà dalle 6 alle 9 con diretta di Punto Radio. Tutto questo si poggerà in piazza 20 settembre. Ci sarà una cena dopo, una cena dall'antipasto al dolce, che tutto ricavato, cioè che riusciremo a ricoperare e a risparmiare, verrà devoluto a una famiglia che ha avuto dei problemi col terremoto. Questa ci è venuta in mente, pensavamo di darli ai bambini, ad un'associazione così puntata a loro, poi questa disgrazia ci ha colpito di più e abbiamo pensato di tutti i nostri guadagni di darli a questa associazione. Questo è il vi aspetto numerosi, saremo felici sicuramente, noi daremo il massimo di noi stessi per realizzare questa manifestazione e questo grande evento. Grazie.